Ciao, sono un ragazzo italiano, sono uno di voi per curarmi dall'uso di tutte le droghe, soprattutto metodone e cocaina, minvena. Mi sono trovato molto bene, soprattutto grazie al dottore Lecce e alla sua grande esperienza. Qui mi hanno aiutato al 90%, il resto ce lo metterò io. Comunque è possibile uscire da una roba, qui ho avuto un grande aiuto, tutto il personale perfetto, lo staff e i famiglieri, tu puoi avere un grande aiuto qui, io sono molto contento del risultato, il resto ce lo metterò io, comunque è possibile.